Un saluto a tutti, sono Sara Magnoli e sono alla Mondadori di Saronno per un firma copie sul mio nuovo libro che si intitola Dark Web. Io non ho paura dei ragni, l'unico ragno che mi fa paura è questo male oscuro che arriva da un uso poco consapevole dei social e di internet, questo strumento meraviglioso di connessione e di conoscenza che se usato con poca responsabilità e con poca consapevolezza porta dei rischi. Dark Web pubblicato da Pelle Doc Editore è un libro, è un giallo che si rivolge soprattutto a un pubblico di adolescenti perché parla di un adolescente, parla di Eva che vuole fare l'influencer di moda pensando che sia semplice, non serve a studiare, mette alcune sue foto su internet e cade preda di Doomled, del cosiddetto ragazzo del destino che prima la circuisce, poi la minaccia, la ricatta, le chiede foto sempre più ardite e le manda in rete. E proprio in questa ragnatela di questo ragno così nero e cattivo cade Eva che deve cercare di liberarsene. Purtroppo è un argomento qui romanzato ma che si basa su uno studio molto approfondito di documenti che ha avuto anche l'avvallo e la collaborazione di tecnici come informatici forensi, Maria Piaizzo e Eva Balzarotti, del sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale dei Minori di Milano Anna Maria Fiorillo, del vicequestore della Polizia Postale di Milano Rocco Nardulli e di una psicologa dell'età evolutiva, Raffaella Pasquale, proprio perché io volevo capire come agisce un adescatore di minori in rete e quali sono le potenziali vittime. Purtroppo nessuno ne è immune. Questo comunque è un giallo, quindi il lettore indaga con Eva e con il suo amico Pio e indaga in parallelo con la ragnatela buona, quella della Polizia Postale, che fa di tutto per liberare questi ragazzini da questo terribile gorgo in cui sprofondano. Grazie e un saluto a tutti quanti.